Io sono Andrea Sommaruga e sono il proprietario dell'azienda agricola Panzanello. Questo qui è una riserva, il vino più rappresentativo della mia azienda, è 1427 e un dato storico, catasto storico fiorentino, 8 luglio 1427, Panzanello già produceva vino e olio. Panzanello è un'azienda che ha una grande voglia di crescere, una grande voglia di stare con la gente, col consumatore finale e esprimere al meglio tutto il nostro potenziale. Il momento significativo sono dei momenti abbastanza dolorosi che però per me sono stati molto importanti perché mi hanno dato una svolta decisiva per chi sono io realmente, far capire alla gente cosa c'è dietro ogni singola bottiglia di vino e perché il Chianti Classico ci rappresenta in questa maniera. strepitosa come sta facendo negli ultimi anni.